C'è entusiasmo a Mantova per la squadra di Possanzini, seconda in classifica che cerca punti contro il Novara per cercare di avvicinarsi alla vetta occupata dal Padova. Novara invece penultimo in classifica, ancora a secco di vittorie, che accoglie Giacomo Gattuso, nuovo mister al posto dell'esonerato Buzzegoli. Gattuso ha chiesto compattezza al Novara per questa sua prima sfida su un campo così difficile. Grande ex di giornata Galuppini l'anno scorso al Novara, oggi stella del Mantova per il Novara di Gattuso. 3-4-2-1 con Rossetti, unica punta. Minuto 23, la prima emozione destro su punizione di Calcagni, festa alla centesima in Serie C con il Mantova, devia in calcio d'angolo. È il primo squillo della partita, ancora Novara, più propositivo nelle fasi iniziali, palla in profondità, bucata completamente la difesa del Mantova. Gerardini davanti a festa, alto il tiro di sinistro, apre troppo il colpo con il mancino. Gerardini e non trova il gol del vantaggio. Vantaggio Novara che però arriva nel secondo tempo Donadio dalla bandierina Bertoncini. Nella mischia batte festa. Bertoncini torna al gol addirittura dopo quattro anni. Aveva segnato per l'ultima volta con la maglia della Piacenza nei playoff del 2019 e questo ovviamente è il primo gol di Bertoncini in maglia Novara. Seconda stagione con i Gaudenziani. Il colpo forse con la spalla decisivo del 6 del Novara. Bertoncini a questo punto deve reagire il Mantova che al martelli in casa non ha ancora perso in questa stagione punizione di Burrai con i pugni Desjardins. La palla arriva al neoentrato Bragantini che crossa verso Suager. Grande occasione ma è tutto fermo. Suager aveva spinto in area di rigore commettendo fallo. I cambi della Mantova comunque hanno dato nuova vivacità alla squadra di Postanzini. Minuto 79. Celesia tocca in avanti. Boccia sfiora e batte clamorosamente Desjardins. È un gollonzo che vale il pareggio del Mantova. Il tocco in profondità di Celesia. La deviazione sfortunatissima di Boccia e l'esultanza per Celesia sotto la curva a te. Questo il suggerimento in avanti di Celesia. Decisamente non un tiro. Il colpo di Boccia è davvero sfortunatissimo. All'ottantesimo è 1 a 1. A questo punto il Mantova ci crede. Crede nella possibilità di completare la rimonta. E l'occasione per i padroni di casa arriva al novantunesimo Giacomelli su calcio di punizione. Primo gol con la maglia del Mantova per l'ex Vicenza dopo 11 stagioni in maglia alane arrivato a Mantova. La prima esultanza sotto la curva a te è per un gol fondamentale che vale tre punti battuto sul suo palo. Un Desjardins stavolta non irreprensibile. Tutta la gioia di Giacomelli per la prima volta a prendersi l'abbraccio del suo nuovo popolo della curva a te di Mantova. Entusiasmo tanta gioia al Martelli è il gol decisivo perché il Mantova resiste agli assalti del Novara. Mantova che vola momentaneamente in testa alla classifica. Quinta sconfitta stagionale per il Novara la più immeritata però tra quelle maturate dalla squadra piemontese.